Una delle domande più frequenti che mi viene fatta a studio è ma dopo quanto tempo possiamo lavare i denti una volta mangiato? Beh, la risposta è molto semplice. Ogni qualvolta che introduciamo un alimento o comunque una bevanda differente dall'acqua all'interno del cavorale, il pH di esso automaticamente scende e quindi si forma un ambiente più acido. Se a questo ambiente acido noi associamo il meccanismo di spazzolamento, a lungo andare, quindi si parla nell'arco del tempo, portiamo via strati di smalto, nonostante sia il tessuto più duro del nostro corpo e che riveste esternamente il dente. Quindi cos'è consigliabile fare? Aspettare sempre un range di tempo, dai 20 ai 30 minuti una volta mangiato, prima di lavare i denti, in modo tale che i sistemi tampone e la saliva presente all'interno del cavorale riportino il pH al sostato naturale.